buongiorno a tutti sono ivana sapete che il marchio di riconoscimento di fm group sono le essenze le fragranze i profumi ma fm group ha una vastissima gamma di prodotti e in questa rubrica inizierò col presentarvi fm group partendo dalla linea forum oggi vi presento il detersivo per i piatti all'olio di babasù rimuove con efficacia grasso incrostazioni e altro tipo di sporco unisce l'efficacia pulente alla delicatezza per la nostra pelle l'olio di babasù ha proprietà antietà e idratanti ha un ph pari a 5,5 non contiene allergeni ed è dermatologicamente testato ma come usarlo mettere qualche goccia di detersivo direttamente sulla spugna e quindi lavare piatti e stoviglie mi raccomando risciacquate con cura io e tutta fm group italia vi salutiamo e ci vediamo al prossimo appuntamento con un nuovo prodotto fm group a presto